Iran, l'ISIS ha rivendicato il doppio attentato. Gli Ayatollah avevano puntato il dito su Stati Uniti e Israele. Oggi il giorno del lutto. Da Papa Francesco, telegramma di cordoglio per le vittime delle esplosioni. Stangata RC auto, aumenti medi nelle polizze, la differenza tra Aosta e Napoli sfiora i 250 euro e intanto è caccia al risparmio. Al via oggi in tutta Italia i saldi invernali. 40 anni fa l'assassinio per opera della mafia del giornalista e scrittore Giuseppe Fava al suo impegno e sacrificio ha reso maggio oggi anche il Presidente della Repubblica che ha ricordato Fava ha fatto del giornalismo uno strumento di irrinunciabile libertà. L'indipendenza, il pluralismo dell'informazione, pietra angolare di una società sana e di una democrazia viva. Edizione di Mezzogiorno. Bentrovati dalla redazione della TG2000. Dunque, lo avete sentito. L'ISIS ha rivendicato la strage al cimitero di Kerman in Iran. Oggi i funerali delle vittime, attese nuove manifestazioni di piazza da Mattarella ferma condanna dello spreggevole attentato e il cordoglio del Papa. Alessio Orlandi. Saranno le forze armate del Paese a decidere quando e dove rispondere. In un discorso ai funerali delle vittime del duplice attentato firmato dall'ISIS a Kerman il Presidente iraniano Raisi preannuncia una risposta certa e dura per gli 89 morti e gli oltre 280 feriti tra le migliaia di persone che erano andate in pellegrinaggio alla tomba dell'ex comandante dei Pasdaran Soleimani. A colpire, due giorni fa, sono stati kamikaze dello Stato Islamico. Ieri con un post su Telegram è arrivata la rivendicazione dell'organizzazione jihadista sunnita che ha definito martiri i due attentatori che si sono fatti esplodere contro il raduno di sciiti. Una fonte, citata dall'agenzia di stampe iraniana Irna, ha fatto sapere che non potendo superare controlli di sicurezza vicino al mausoleo di Soleimani i due terroristi si sono fatti saltare in aria a una distanza di oltre un chilometro dalla moschea dove è sepolto l'ex generale dei Pasdaran. Nonostante la rivendicazione dell'ISIS, le autorità di Teheran non abbassano comunque i toni contro gli Stati Uniti e soprattutto Israele, accusati fin dall'inizio di essere dietro alla strage e di voler destabilizzare l'intero Medio Oriente. Papa Francesco, in un telegramma di cordoglio inviato alle autorità iraniane, si è detto profondamente rattristato dalla perdita di vite causata dalle esplosioni avvenute a Kerman, assicurando la propria preghiera per le vittime e le loro famiglie. Anche il presidente della Repubblica, Mattarella, ha condannato lo spregevole attentato esprimendo profondo cordoglio al popolo iraniano. Intanto, in attesa della risposta di Teheran all'attentato, il paese ha rafforzato i controlli ai confini con Afghanistan e Pakistan dove sono ancora forti cellule dell'ISIS. Ed è arrivato in Turchia il segretario USA Antony Blinken per la sua quarta missione in Medio Oriente. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, una missione di una settimana che sia. Questa prima tappa in Turchia, nella Turchia di Erdogan, che sicuramente è il paese della NATO più critico verso le operazioni militari di Israele nella striscia di Gaza. Poi Blinken visiterà altri cinque paesi arabi, tra cui Egitto, Qatar, Emirati, Arabia Saudita. Il lunedì dovrebbe essere qui in Israele. Appunto, Blinken, prima di partire, è assicurato che continuerà a lavorare per la protezione e gli uti umanitari ai civili di Gaza con il governo di Netanyahu. Una strada sicuramente in salita, anche visti i furibondi litigi che sono stati riportati dai media israeliani che sono avvenuti ieri sera nel gabinetto di guerra, in cui i ministri più estremisti hanno attaccato frontalmente il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, colpevole di aver annunciato una commissione di inchiesta per il fallimento del 7 ottobre. In Italia è stato costretto a chiudere la riunione che doveva essere dedicata in realtà al futuro della striscia di Gaza. Ieri sera, un'ora prima del gabinetto di guerra, il ministro di difesa Galant aveva diffuso un comunicato in merito a questa famosa quarta fase in cui si legge che sarebbero i palestinesi a governare la striscia ma solo dopo che una task force a guida americana avrà ricostruito le autorità civili di Gaza mentre rimarrebbe il controllo esterno dell'esercito israeliano. Ma nessuna informazione in questo documento su quando dovrebbero finire queste operazioni militari a Gaza dove continuano i bombardamenti, continuano a morire anche i civili da Gaza City, a Hanyunis dove sono arrivati nuovi ordini di evacuazione verso sud ma sappiamo che i residenti denunciano che anche a Rafan e le aree sicure continuano le bombe a cadere. E poi rimane tesa la situazione sul confine con il Libano dove continuano gli scontri tra i miliziani di Hezbollah e l'aviazione israeliana. E la linea può tornare a voi. Grazie alla corrispondente Alessandra Buzzetti e torna l'alta tensione tra le due Coree quella del nord che spara 200 colpi di artiglieria. Il sud evacua due isole. Da Pyongyang il presidente Kim chiede di aumentare la produzione di lanciamissili e Seul reagisce. Basta provocazioni, risponderemo adeguatamente. Giorgia Bresciani. La Corea del Sud ha ordinato ai civili l'evacuazione delle isole di Yeongpyeong e di Baengnyong lungo la linea di confine con il nord nel Mar Giallo dopo che Pyongyang ha sparato circa 200 proiettili di artiglieria a largo della sua costa occidentale. L'ha confermato il Ministero della Difesa parlando di un atto provocatorio della Corea del Nord. Seul ha risposto sparando a sua volta proiettili veri con l'artiglieria contro l'isola di Yeongpyeong al confine. Lo scambio di artiglieria fra le due Coree è il primo dallo scorso novembre quando i due paesi si sono ritirati da un accordo per evitare incidenti militari adottato nel 2018. Ad alimentare il clima di tensione anche le parole del leader nordcoreano Kim Jong-un che durante una visita a una fabbrica di armi ha chiesto un aumento della produzione di lanciamissili in preparazione di uno scontro militare con la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Pechino invita le parti alla moderazione e auspica la ripresa di un dialogo significativo. La Casa Bianca sostiene che la Corea del Nord ha fornito alla Russia missili utilizzati per attaccare l'Ucraina e denuncia una conseguente preoccupante escalation del sostegno di Pyongyang a Mosca. Alleati storici, Russia e Corea del Nord sono entrambi soggetti a sanzioni internazionali. La prima per l'invasione dell'Ucraina e la seconda per i suoi programmi missilistici di armi nucleari vietati. Al termine di una riunione di cinque giorni del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea alla fine di dicembre, Kim aveva già ordinato l'accelerazione dei preparativi militari per una guerra che potrebbe essere lanciata in qualsiasi momento nella penisola. Ucraina all'arme aereo a Sebastopoli abbattuti almeno dieci droni russi. Colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Sentiamo Rita Salerno. Mentre le milizie russe avanzano sul campo nella regione orientale del Donetsk le forze di difesa aereo ucraine hanno abbattuto nelle ultime ore dieci droni di Mosca vicino a Kherson e Mikolaiv stando a quanto riferito da fonti governative. A Sebastopoli è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a ripararsi nei rifugi. Sospese le operazioni di trasporti pubblici maritimi e terrestri. Ieri le difese aeree hanno rispinto un nuovo attacco sulla penisola di Crimea e il ponte che collega con la Russia è stato temporaneamente chiuso al traffico. Dieci droni russi sono stati abbattuti dalle forze ucraine anche se alcuni non intercettati in tempo hanno ferito alcune persone e procurato danni nel sud del paese. Nella penisola di Crimea si concentra maggiormente lo scontro tra Ucraina e Russia. Proprio qui sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea di Mosca 36 droni di Kiev. Ieri nuovo colloquio tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con Zelensky per esprimere solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi su tutto il territorio ucraino. Nel corso della conversazione la prima dall'avvio della presidenza italiana del G7 con un leader internazionale fa sapere una nota di Palazzo Chigi è stata l'occasione per confermare che l'aggressione russa all'Ucraina sarà tema centrale dell'impegno italiano. Prosegue la ripresa del potere d'acquisto delle famiglie dopo la brusca caduta del quarto trimestre 2022 e aumenta anche il reddito disponibile lo rileva l'Istat. In particolare il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente mentre i consumi sono cresciuti dell'1,2%. Invece non si fermano i rincari. Aumenti anche per le tariffe dell'RCA Auto ampia la forbice tra le città dello stivale il differenziale di premio tra Napoli e Aosta anch'essa aumentato è di 248 euro. Letizia Davoli. Per gli automobilisti avere un'assicurazione è un obbligo di legge ma la stessa legge non pone alcun limite alla voracità delle compagnie che di anno in anno ne approfittano per aumentare i prezzi senza alcuna giustificazione creando una situazione ormai fuori controllo. L'ultimo aumento arriva infatti con il 2024 già accompagnato da una raffica di rincari in ogni settore di beni primari. Secondo i dati IVAS l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni che ha stipulato un contratto ad ottobre ha lasciato nelle casse delle compagnie il 7,8% in più e se si considera che in Italia circolano circa 43 milioni di veicoli la stangata rispetto ai prezzi medi del 2022 raggiunge la cifra esorbitante di oltre un miliardo di euro. Soldi che escono dalle tasche dei suoi automobilisti per finire direttamente in quelle delle assicurazioni. Il prezzo medio di un contratto per il 2024 si attesta a 391 euro che si traduce in una maggiore spesa di circa 31 euro a polizza ma gli aumenti, dicono i dati, non sono uguali per tutti. Cresce infatti anche la differenza nei costi tra le diverse aree del paese tra Napoli e Aosta adesso è a 248 euro in aumento rispetto all'anno precedente del 3,1% mentre il premio effettivo risulta più elevato al centro dove si pagano 424 euro e al sud dove invece si arriva a 413 euro. Ed è ancora peggiore la situazione per chi ha classi di merito superiori alla prima gli aumenti qui sono dell'11% questo trend dimostra che a tutela dei consumatori c'è ora bisogno di maggiore equità nel settore noi aspettiamo un sistema che valorizzi i guidatori virtuosi che abbia minori differenze tra province e soprattutto che investa in una maggiore sicurezza stradale affinché ci siano sempre meno sinistri. Occasione di risparmio invece con i saldi dopo l'anticipo della Valle d'Aosta al via in tutte le regioni italiane tra oggi e domenica 7 gennaio saranno circa 12 milioni gli italiani che acquisteranno un prodotto moda a prezzo scontato nei negozi e sulla rete per una spesa complessiva stimata di circa 1,8 miliardi di euro come dichiara Confesercenti complessivamente 4 italiane su 10 hanno già pianificato di comprare in saldo con un budget medio previsto di 267 euro arriva il maltempo in Italia l'allerta meteo riguarda oggi 4 regioni mentre il nord Europa fa i conti con una ondata di gelo eccezionale le temperature hanno raggiunto i meno 43 gradi Antonella Mazzateruel porta in Italia il crollo delle temperature quest'anno l'arrivo dei Magi l'Epifania 2024 coincide con il primo grande freddo della stagione invernale già a partire dalla giornata odierna stando alle previsioni meteo sono attesi piogge e venti sulle regioni settentrionali del ponente Ligure poi anche centrali in Emilia Romagna e soprattutto quelle tirreniche in Toscana neve sulle Alpi e sul dorso appenninico anche in collina al di sotto dei millimetri il tempo sta repentinamente peggiorando l'intero weekend festivo sarà per buona parte del paese un weekend avvolto d'aria gelida a causa di una perturbazione di origine atlantica un vortice che ha raggiunto il nord Europa provocando la libera discesa del termometro fino a meno 43 gradi registrati la scorsa notte nella Lapponia svedese un caos totale si è verificato secondo la polizia locale ieri nel sud della Svezia in una super strada paralizzata dalla neve automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati nel Maxingorco oltre 24 ore piove da un paio di settimane in Sassonia nell'est della Germania sorvolata in elicottero visitata ieri dal cancelliere tedesco Olaf Scholz rimasto impressionato dal lavoro continuo e dalla solidarietà tra cittadini organizzazioni istituzioni per la difesa di dighe allagato invece il nord della Francia questa è la cittadina di Arca nel dipartimento di Pad Calais regione colpita di frequente da forti piogge con conseguenti inondazioni che geologi francesi attribuiscono però alla politica irresponsabile di costruzione e sviluppo del territorio l'ex campione paralimpico Oscar Pistorius è stato rilasciato sulla parola dal carcere sudafricano dove stava scontando una condanna per l'omicidio della sua ragazza Riva Steenkamp quasi 11 anni fa la madre della vittima ha commentato dicendo che chi sconta l'ergastolo siamo noi che abbiamo perso Riva Pistorius 37 anni aveva sparato alla donna nel 2013 attraverso la porta del bagno dove si era rinchiusa nel 2015 è stato condannato per omicidio 40 anni fa l'omicidio l'assassinio per opera dei mafiosi del giornalista e scrittore Giuseppe Fava al suo impegno e sacrificio ha reso maggio oggi anche il presidente della Repubblica come ci racconta Lucia Ascione non sono serviti 40 anni alla mafia che lo uccide la sera del 5 gennaio 1984 nei pressi del teatro stabile di Catania per spegnere la voce di Giuseppe Fava giornalista scrittore pittore padre di famiglia assassinato perché senza paura raccontava il male della sua terra amatissima denunciava le mani sporche delle organizzazioni malavitose faceva nomi e cognomi perché doveva dare risposta a una domanda che lo assillava a cosa serve essere vivi se non si ha il coraggio di lottare 5 colpi di pistola alla testa che probabilmente non gli danno neanche il tempo di realizzare cosa stesse succedendo non hanno minimamente scalfito la passione per la sua gente e per la Sicilia 40 anni dopo un altro figlio di quella stessa isola il presidente Mattarella rende omaggio all'impegno e al sacrificio di Giuseppe Fava e ricorda il suo valore di uomo e professionista che si ribella al dominio della violenza e della sopraffazione che fa del giornalismo uno strumento di irrinunciabile libertà perché aggiunge il capo dello Stato pietra angolare di una società sana e democratica sono l'indipendenza dell'informazione e la salvaguardia del suo pluralismo 40 anni dopo restano vivi i volti che Fava aveva ritratto nei suoi quadri istantanee della sua terra che non ha mai smesso di sognare bellissima e ripulita da quei mafiosi e da quella mentalità avida che si nutre di silenzi sete di potere e violenza lo sport con il calcio e la Coppa Italia la Juve travolge la Salernitana per 6 a 1 e guadagna i quarti di finale incontrerà il Frosinone ed è tutto vi lascio al meteo e poi a terza pagina TG Flash alle 14.55 grazie del vostro tempo e buona giornata arrivederci